Cayetana è stata cacciata di casa dal marito Herman, che evidentemente è il cuore occupato con la coraggiosa Manuela. La della Serna però, grazie alle sue doti manipolatorie, riuscirà a convincere il marito a accoglierla in casa per un'altra settimana, con la scusa di poter stare vicino alla figlia Carlota. Ma questa sarà una pessima idea ed Herman si pentirà per tutta la vita. Cayetana, fredda e vendicatrice, non ha accettato l'abbandono di Herman e ha pensato ad una terribile vendetta, colpire ciò che l'uomo ha di più caro, Carlota. Lo farà nel modo più assurdo e crudele. Cayetana infatti riuscirà a procurarsi uno scirotto avvelenato che somministrerà quotidianamente alla figlia. Inutile dire che questa si sentirà male e nessuno riuscirà a capire che cosa abbia, nemmeno il padre che è un medico. Cayetana farà finta di nulla e fingerà di prodigarsi per tentare di salvarla. Celia sarà in procinto di adottare un figlio, dopo che Felipe le avrà dato il benestare. Vedere Carlota soffrire però le insinuerà dei dubbi, sarà davvero in grado di essere una brava madre, chi invece coglierà in fragrante la della serna a dare lo scirotto avvelenato a Carlota, sarà Rita. Resta da sapere se la donna starà zitta o dirà a qualcuno quanto scoperto.